Questo prossimo pezzo trae spunto da un fatto successo nel 1920, cioè quando un artista, un dadaista di nome Apple, dirottò una nave tedesca regalandola ai russi che avevano appena fatto la rivoluzione. La portò ad Odessa, i russi fecero una grandissima festa, fecero saltare sia la nave sia i tedeschi, e questo pezzo si chiama la Mela di Odessa. La portò ad Odessa 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 E la mela cosa fece? Salì, 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 salì. Invece la foglia non aveva capito e salutò, 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 salutò. Rientrò nel mare e nessuno, dico nessuno, la vide più. Ma forse per lei il mondo era ancora piatto. Rientrò nel mare e nessuno. Rientrò nel mare e nessuno.